Il Green Pass diventa obbligatorio dal 6 agosto. Per ottenerlo ci sono diversi modi. Il primo è l'attivazione attraverso il sito governativo www.dgc.gov.it o tramite il fascicolo sanitario elettronico. È possibile utilizzare anche la app Immuni, Io o attraverso i medici di medicina generale. Di grande praticità anche il servizio offerto dalle farmacie. Bastano pochi minuti per entrare in possesso della propria certificazione. Uno dei modi più semplici per scaricare il Green Pass è quello di recarsi in farmacia. Le chiedo se effettivamente qui sono venuti diversi cittadini a chiedere il documento. Sì, sono venuti diversi cittadini e stanno venendo sempre più frequentemente. Come si scarica il Green Pass in farmacia? Bisogna che il cittadino venga con la tessera sanitaria e basta, si scarica. Poi provvediamo noi con la tessera sanitaria. Quindi si inseriscono i dati e il tutto viene svolto in pochi minuti? Sì, in pochi minuti. Cinque minuti.